Il 1 gennaio tornano i tradizionali appuntamenti dell'orchestra Rossini che apre il 2024 con diversi concerti in più città. Quando si parte? Sì, praticamente quest'anno ci facciamo in quattro. Questo è stato il nostro slogan per il 1 gennaio. Infatti ci esibiremo come istituzione in ben quattro concerti di Capodanno. Saranno a Senigallia il mattino, a Fano il pomeriggio e a Pesaro alla sera. E in contemporanea, sempre alla sera, ci sarà il concerto di Capodanno a Corinaldo. In realtà sono due programmazioni principali. Abbiamo voluto quest'anno dividere tra Fano e Pesaro. Tradizionalmente il programma era lo stesso. Quest'anno abbiamo diviso perché c'erano due importanti avvenimenti. Uno è stato il riconoscimento da parte dell'UNESCO per il canto lirico italiano quale patrimonio immateriale appunto UNESCO. E quindi su Fano il concerto sarà incentrato sulla grande lirica italiana con uno straordinario tenore, Raffaele Abete, e la direzione di un giovane, ma bravissimo, Alfredo Salvatore Stillo. Su Pesaro invece faremo un concerto sinfonico all'insegna di una grande donna, giovane, Leonora Arbellini, pluripremiata al concorso Chopin di Varsavia, che è un po' il Wimbledon per i tennisti del pianoforte. E lì proporremo il concerto in sol di Ravel e poi in musiche tradizionali, ovviamente Rossini, Brahms e quant'altro. Questo concerto che facciamo la sera a Pesaro sarà appunto anticipato al mattino a Senigallia, questo programma. Terminiamo con Corinaldo che è un programma mix, come ci piace fare a noi, quindi sarà la parte pop dell'orchestra, è per questo che potremo sdoppiarci nella sera di Capodanno tra Pesaro e Corinaldo. La parte pop che proporrà tradizionali musiche di Capodanno riviste in modo moderno e poi un excursus nelle hit internazionali interpretate dalla grandissima Clarissa Vichi. Dove è possibile acquistare i biglietti? Allora, i biglietti intanto su Viva Ticket sono aperte tutte le biglietterie online, altrimenti ai botteghini dei teatri, quindi il Teatro della Fortuna, il Teatro Rossini, il Teatro La Fenice di Senigallia e il giorno stesso anche a Corinaldo. Corinaldo l'ingresso è gratuito, gli altri hanno dei prezzi che vanno al massimo da 20 euro, poi con una serie di riduzioni e scontistiche.